Secondo gli ultimi dati INAIL scende il numero degli infortuni sul lavoro nelle province di Campobasso e di Sernia nel primo semestre di quest'anno. I sindacati però invitano a non abbassare la guardia. Seguiamo questo contributo. Dopo gli ultimi avvenimenti di cronaca, come quello che la scorsa settimana ha visto un operaio di Rocca Ravindola rimasto folgorato a Castelli Sangro, si torna a parlare proprio del problema della sicurezza negli ambienti lavorativi. Gli ultimi dati riguardanti il Molise pubblicati dall'INAIL, relativi al periodo che va da gennaio a luglio, sono più confortanti, visto che riportano un calo degli infortuni del 36%, registrando nel 2023 1.800 infortuni rispetto ai 1.576 che si sono verificati l'anno scorso. Sono 778 i casi accaduti in provincia di Campobasso, 230 in quella di Sernia. La percentuale di donne coinvolte rappresenta il 37% del totale. Scende anche il numero degli incidenti mortali in regione. Rispetto alle 5 vittime contate nel 2022, per quest'anno ancora in corso si è registrato un solo decesso. La diminuzione dei numeri nelle statistiche non deve distogliere l'attenzione dalla problematica. La CGL affronterà l'argomento nella prossima manifestazione in programma a Roma il 7 ottobre.